giro questo filmato per un amico di youtube che voleva sapere come si sentiva lo stereo della panda 70 cavalli hybrid sport dietro allora faccio la scala di volume della panda a 30 tacche faccio una prova a 10 a 20 ea manetta sono fermo con le quattro frecce all'autostrada e io sono di seduto dietro mi allungo per far partire la musica queste volume 10 io sono dietro questo è volume 20 e io sono dietro come diceva non ci sono casse dietro solo casse davanti questo è 30 volume 30 mi sono sbagliato e da 0 a 36 forse le tacche del volume comunque questo è 30 sono sempre dietro ok 38 38 ok saluto tutti e chiudo spero di essere stato utile ciao